21-29 giugno, terza Biennale Internazionale di Arte Contemporanea della Versilia. Vi aspetto con l'esposizione delle mie opere. Nel frattempo che aspettiamo il 21 giugno, le mie opere sono esposte presso la Galleria Merlino a Firenze. Non sono solo questi gli appuntamenti, se andate sul mio portale soniagrey.it trovate tutta l'area, quadri, news e galleria e trovate anche l'ultima newsletter con per l'appunto tutte le date e i prossimi appuntamenti.